Troppi, stipati in piccole stanze, locali non idonei, condizioni igieniche precarie, anche e soprattutto nei bagni. E poi ancora mancata consegna del pocket money, quella cifra oscillante intorno ai 2 euro e mezzo al giorno, che dovrebbe essere versata agli immigrati ospiti dei centri di accoglienza in attesa del riconoscimento dello status dei rifugiati politici o dei documenti per poter lasciare la struttura. Una somma che, secondo quanto raccontato da uno degli ospiti, non sarebbe loro versata anche per tre mesi consecutivi. Inoltre, una sola persona tra il personale parlerebbe inglese e potrebbe quindi capire le loro istanze. Sono alcune delle rimostranze fatte dagli immigrati ospiti della cooperativa Malgrado Tutto di La Mezzia Terme, argomento da due settimane del programma L'Arena di Massimo Giletti sul Rai 1. Servizi, quelli proposti dalla rete Ammiraglia, in cui vengono evidenziate lacune e anomalie, ma che sarebbero frutto, secondo il titolare della struttura Raffaello Conte, di un montaggio distorto. Gli immigrati hanno occupato la strada antistante il commissariato di La Mezzia Terme e sono rimasti lì tutta la notte. Voglio un'attenzione, troppi ritardi nel rilascio dei documenti. Alcuni di loro sono parcheggiati nella struttura da oltre due anni. Non possono lavorare o lasciare La Mezzia. Sono come in un eterno limbo. Ne va della loro vita, insistono. Per questo chiedono aiuto. Tiziana Abagnato per la C News 24.